Una novità riguardato stamane il Liceo Scientifico Majorana di Agrigento, infatti è stato comunicato oggi dall'assessorato alla formazione e istruzione che avete accresciuto il piano dell'offerta formativa con l'indirizzo musicale. Sicuramente è molto importante l'attribuzione di questo nuovo indirizzo al Liceo Scientifico Majorana, soprattutto non soltanto per la nostra scuola ma anche per il territorio agrigentino sul quale esistono un gran numero di scuole secondarie di primo grado e indirizzo musicale che non avevano la possibilità di una prosecuzione dell'offerta formativa sul territorio per cui i nostri giovani studenti erano costretti a spostarsi anche fuori dalla provincia. Sicuramente è un risultato molto importante per l'istituto ma penso lo sia soprattutto per l'intera provincia agrigentina. Quali le linee guida di questo nuovo indirizzo? Il nuovo indirizzo di studi è perfettamente inserito nell'ambito liceale. Ciò che viene sostituito nel piano di studi è semplicemente lo studio della lingua e letteratura latina. Viene sostituita con materie di indirizzo nel senso che i ragazzi faranno storia della musica, poi faranno musica d'ensemble, studieranno uno strumento musicale. Questo avverrà durante il pomeriggio, le lezioni saranno pomeridiane. I ragazzi potranno scegliere uno strumento, un altro gli verrà affidato da un'apposita commissione. Molto importante questa opportunità di studio e di formazione per i ragazzi perché consente loro con questa tipologia di diploma di poter accedere a tutte le facoltà universitarie e in più di poter proseguire gli studi presso i conservatori. Una buona notizia che arriva in tempo per chi decide di iscriversi al liceo Majorana con questo nuovo indirizzo musicale. Siamo ancora in tempo nei limiti dell'ordinanza ministeriale che prevede la possibilità delle iscrizioni entro il 15. Comunque c'è la facoltà per chi eventualmente avesse già fatto un'iscrizione però per un indirizzo che non era quello preferito, non essendoci nella nostra provincia ancora questa possibilità, hanno la possibilità di cambiare e comunque possono farlo anche fino a quando non ci sarà la comunicazione degli organici. Penso di dare una comunicazione utile anche per i ragazzi e le famiglie che sono interessate alla scelta di questo indirizzo dicendo che noi siamo sempre disponibili per accogliere eventuali loro richieste, per dare chiarimenti. La nostra segreteria li può assistere anche nell'iscrizione online e a tal proposito volevo specificare che già nel modulo che è inserito nella piattaforma online trovano già l'opzione liceo scientifico a indirizzo musicale. Grazie.